Sono Marco Loconte, azienda agrituristica Verdure Naturali. Sulle alture di Voltri coltiviamo ortaggi, ceci, grano turco e grano. Oggi qui vi vorrei parlare di questo, di un seme. Un seme che tutti noi possiamo seminare. Di un seme che seminandolo fa una pianta. Da questa pianta ci sono dei frutti e dei frutti con cui noi possiamo alimentarci. Questo seme è importante perché non è un seme OGM, non è un seme che è stato modificato in laboratorio, ma è un seme del nostro territorio. È un seme che ci permette di raggiungere un'ottica di autosufficienza territoriale in ambito alimentare e in ambito agricolo. Questo ci permette anche, essendo un seme del nostro territorio, di poterlo coltivare in modo completamente naturale, senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Ed è un seme che, anche con i cambiamenti climatici attualmente esistenti, ci permette comunque di raccogliere. Questo è un seme.